Siamo qui con il coach Stefano Gambaro, oggi Roblo Saronno, esordio serbino nazionale, sconfitta contro Rex Bairz, 81-67. Coach, partita tirata nel primo tempo, la squadra comunque ha fatto vedere che può lottare, nel finale la partita è scappata un'ovia, però mi sembra che ci sono delle buone percezioni. La sensazione è che la prestazione l'abbiamo fatta, ci sono mancate sicuramente tante piccole cose, 5 anni da fuori sicuramente, poche palla persa di troppo, ci abbiamo messo troppo ad abituarci al metro arbitrare, è diverso da quello che ci stavamo abituando, ha fatto la differenza la loro esperienza nel prendersi il palio, la ricontinuazione di lunetta, la prestazione di base c'era, ci mancano tanti dettagli per poter vincere in un altro paese. Speriamo allora di giocare questi dettagli, per mercoledì si gioca con Torregnano, un'altra partita complicata, come la vede? Ma è un campionato in cui non c'è tempo per riuscire a fare troppo, anche perci poco spugnare. Andiamo avanti sul partito del presupposto che la prestazione c'è, le possibilità le abbiamo, Lugliano è una squadra forte, però noi dobbiamo mettere in campo il nostro basket, con convinzione dall'inizio alla fine, vedere cosa succede al quarantesimo. Bene, grazie, poi ci costano tutti. Grazie. Grazie.